Con la presentazione del libro I miei cento passi nelle terre dei fuochi del professore ed oncologo Antonio Marfella si è aperto venerdì pomeriggio alla stecca il ciclo di incontri dell'Università Verde. Un'occasione per riflettere su una complessa e drammatica questione che riguarda tutti da vicino. Marfella da anni è impegnato per denunciare le correlazioni tra disastro ambientale e salute pubblica e ancor più tra disastro ambientale, lavoro nero, camorra, sanità negata e difficile accesso alle cure. È un grande onore per me addirittura rappresentare l'apertura del vostro anno accademico di una libera università che innanzitutto si pone lo scopo di diffondere come è l'università, la cultura e soprattutto il ragionamento aperto a tutti e non chiuso all'interno come adesso sta accadendo di accademie troppo tecnicistiche che impediscono l'apertura mentale in tanti casi. I miei cento passi è una voluta richiamo alla storia di Peppino in passato il quale nel corso della propria vita in un mondo in cui è nato e cresciuto dove appunto si diceva che la mafia non esisteva, nel corso della sua esistenza è costretto a capire che non solo la mafia esisteva ma soprattutto che ce l'aveva in casa e che lui sopravviveva solo grazie al fatto che il papà non lo faceva uccidere. Alla fine questo gli è costato comunque la vita ma ha rappresentato il punto di svolta per comprendere tutti. In questo libro ho raccontato la seconda fase, è finito perché lo scopo era di donarlo al Papa che doveva venire a maggio 2020 ad Acerra, quindi io mi sono premurato di scriverlo per fargliene omaggio. Purtroppo il Papa non è venuto e siamo ancora purtroppo come vedete in piena era Covid, non abbiamo neanche superato l'era Covid e nonostante non abbiamo superato l'eva Covid Terre dei Fuochi è entrata nella sua terza fase. Terre dei Fuochi che cos'è? È lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali di cui noi campani siamo diventati il cattivo esempio in Italia ma che a mio malgrado ho dovuto imparare appunto e su questo concordiamo con la regione Campania non essere la Campania il punto più importante dove questo avviene e il punto dove i cittadini grazie anche a persone come me se ne sono accorti per primi e hanno comunque cercato di ribellarsi. Qual è lo scopo di questo libro? Per me rappresenta la traccia che io voglio lasciare proprio come anche Peppino in passato per far capire a tutti che purtroppo la mafia esiste, l'ecomafia esiste ed è la cosa più terribile capire che in realtà non è fatta solo dai malavitosi la cosa più terribile capire che è fatta anche dalle persone che ti dovrebbero difendere.